Qualche tempo fa, rispondendo alla domanda di un giornalista, Giorgia Veneno ha detto che lei è contraria a un'Europa federale e vuole un'Europa confederale, anche se sarebbe favorevole un'Europa che agisca più unita e meglio in materia come è la difesa. Ecco, si tratta di un'affermazione che fondamentalmente è contraddittoria, perché affinché l'Unione agisca in maniera unitaria, in materia di difesa, di politica estra, di politica economica, industriale, come sta chiedendo anche l'Italia, è necessario che ci sia un governo europeo e un governo europeo, per essere democratico, non può che essere un governo federale. Perché? Perché il federalismo non è altro che la creazione di forme di governo democratico multilivello. Ecco quindi che chiedere una maggiore unità europea, una maggiore capacità dell'Unione di agire, ma essere contrario al federalismo, è sostanzialmente contraddittorio. Anche perché l'Unione non è già più una confederazione e molto di più. Le confederazioni prevedono infatti l'assenza della prevalenza del diritto comune sul diritto interno, prevedono decisioni all'unanimità, non prevedono una moneta unica. Cioè l'Unione ha già superato da molto tempo una visione confederale, che era infatti quella di De Gaulle negli anni Sessanta. È già una federazione in the making, come dice qualcuno, cioè una federazione in costruzione, che ha già diversi attributi tipici di una federazione, ma non tutti. La sfida per l'Europa e l'interesse dell'Italia è completare questo processo di federalizzazione dell'Unione.